Questo programma è offerto da 76esima Fiera del Levante a Bari dall'8 al 16 settembre Un nuovo rinforzo dell'anticiclone garantisce stabilità e bel tempo prevalente su tutti i settori peninsulari e le isole maggiori salvo locali acquazzoni o temporali ad evoluzione diurna su Alpi e Prealpi In Puglia cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio Venti moderati settentrionali su Ionio e Salento per lo più deboli altrove Questo programma è stato offerto da 76esima Fiera del Levante a Bari dall'8 al 16 settembre Grazie a tutti!